adesso vediamo qualcosa di veramente veramente bello in questo senso qui perché esteticamente sono belle ma sono veramente funzionali queste canne sono nate e studiate appositamente dal nostro patron collini insieme alla mia collaborazione alla collaborazione di tutta la squadra dell'oltrarno colmice mare per creare quello che poi in realtà in casa colmice mancava ovvero sia delle canne da alto livello tecnico e soprattutto nate per le gare ma che si adattano benissimo anche alla pesca comune sono tre canne telescopiche e più una canna a tre sezioni che vedremo dopo le telescopiche una light una medium e una strong che appunto sono nascono per tre tipi di pesca differenti ovvero sia una pesca di mezzo fondo una pesca mista e una pesca solo esclusivamente a fondo sono praticamente le tre situazioni che poi si riscontrano nelle gare nel nostro mar mediterraneo sono come si vede benissimo e poi comunque una volta che uno la mano le percepisce ancora di più sono canne sottilissime ma che tutte hanno una potenza veramente eccezionale se si basta pensare che con la strong è possibile sbilanciare dalla balca oltre 200 grammi di peso ecco questo di grammi di piombo questo ne dà subito l'evidenza della del pregio di queste canne la light viene la light e la medium vengono date con due vette telescopiche mentre la strong e come vedremo la tre pezzi con tre vette un piccolo appunto sulla light che nasce con ossia con una vetta da 72 che con una vetta da 76 centimetri base 4 da evidenziare che appunto nel poi nel nell'eventualità che uno la volesse leggermente più lunga abbiamo le vette intercambiabili con la possibilità di avere quella da 80 centimetri per determinati tipi di pesca come dicevo appunto poco fa della serie challenge superior fa parte anche la tre sezioni questa diciamo che è la canna da sbilancio in barca per lì per eccellenza come si vede sono tre sezioni 1 2 3 e più logicamente le vette qui ci sono due sotto vetta perché uno è un sotto vetta strong e uno è un sotto vetta light che appunto le due potenze stanno a indicare che la canna può essere utilizzata sia con piombature medio pesanti che pesantissimi nel con la sotto vetta strong e come possiamo vedere benissimo anche indicato nei singoli pezzi con il sotto vetta strong e io ho pescato con 400 grammi di piombo senza nessun problema e sono canne questa è una canna che come detto prima insieme alle altre nascono per l'agonismo però sinceramente per uno che c'ha da fare una pesca dalla barca di un certo livello questa sinceramente è una canna che ormai e sia nel livello dei prototipi che io ho provato e poi con canne finite che abbiamo provato noi con l'oltrarmo colmici mare con tutta la squadra ci hanno dato delle soddisfazioni non indifferenti